Dario Camberlingua al collasso perché oltre ai noti e cronici problemi del pronto soccorso oltre al blocco dei ricoveri in ginecologia esplode ora il caso del reparto ortopedia pure questo denuncia la FPCGL sotto organico quelle gravi carenze che riguarderebbero pure altri reparti che fanno comodo, spiegano le segreterie provinciali e bilanci e che ora accendono la campagna elettorale Naturalmente pretendiamo di conoscere le sorti di questa struttura che non è al servizio soltanto della città di Francavilla Fontana ma di un territorio più vasto e vogliamo una conferma di quanto ci è stato detto nelle settimane scorse e cioè che su questa chiusura temporanea abbiano inciso due fattori da una parte lavori che erano necessari e urgenti per quello che mi costa il reparto e poi è sopravvenuta anche questa carenza di medici che è un problema strutturale e vogliamo sapere se c'è un percorso delineato dalla regione per venire fuori da questa situazione di urgenza noi speriamo il prima possibile Mi spiace che l'amministrazione comunale Denuzzo con oggi l'ingresso del consigliere regionale Bruno e con la benedizione di Emiliano non si siano resi conto di una criticità che sta attraversando l'intero nosocomio penso anche al pronto soccorso penso a radiologia che si trova già a mezzo servizio già da oggi e quindi stiamo assistendo al di là delle smentite che fa il sindaco ad uno smantellamento dell'ospedale di Francavilla Assolutamente è necessario un tavolo istituzionale che coinvolga tutti coloro che hanno un ruolo a livello regionale la politica deve prendersi le sue responsabilità e in questo momento deve porre in atto delle soluzioni concrete affinché l'ospedale di Francavilla non imploda Dai candidati sindaco insomma arrivano proposte ma non soluzioni a fronte di un problema forse più grande di loro Grazie a tutti